Tananai è l'ultimo protagonista dell'esibizione dal palco esterno al Teatro Ariston di Sanremo, quello di Piazza Colombo, l'artista questa volta figura come ospite del festival dopo l'ultimo posto in gara nel 2022 e il quinto nel 2023. Ovviamente Tananai ha proposto dal vivo la sua tango, una vera e propria hit da quattro dischi di platino che ha conquistato tutti gli italiani per la commuovente storia di Olga e Maxim, una coppia divisa dalla guerra in Ucraina. E allora per vedere la sua esibizione cliccate nel link in descrizione oppure nel primo commento di questo canale e buona visione. Grazie a tutti!